No, guardi, noi poi ci possono essere, come dire, divergenze di valutazioni, noi l'unico elemento propositivo da parte nostra è stato quello di rappresentare l'esistenza di alcuni giocatori della Lazio, poi quelle come esistenza, non come obbligo, tra altre cose, anzi non sono stati mai privilegiati, tutt'altro, noi abbiamo messo, c'è questa conseguenza, se interessa, se interessa, se interessa, se interessa, tant'è vero che sono stati presi altri giocatori su loro indicazione, l'indicazione in quel momento per loro non era presente, noi parlavamo con Sucini che ha sempre detto che chi condivideva con l'allenatore, questo è un po' il problema, quindi, voglio dire, noi non è che vogliamo imporre i nomi, anche perché noi abbiamo portato con tutto il rispetto, Mendicino, portato non come scelta nostra, abbiamo detto, c'è Mendicino, il giocatore che ha giocato in B, quindi non è che c'è, e Grassi l'hanno scelto loro, come si chiama? Dalini, Dalini l'hanno scelto loro, quindi tutti questi nuovi, se lo vediamo stanno, cioè noi abbiamo, voglio dire, abbiamo detto, se Bernardi era un buon giocatore, questo dice, se Bernardi potremmo contabberarti, o dite voi quali sono, il nostro è sempre stato messo, noi abbiamo la possibilità di prendere questo, vi stanno bene? No, sì, oppure c'è Tizio, ditevi chi sono, non è che abbiamo detto, bisogna prendere Tizio, Caglio, Sempronio, ovunque.